Ciao a tutti gli amici di Garmin, siamo a Cadice, siamo in partenza per la qualifica per la rotta del room arriverò in solitario a Lorient e sarà un ottimo test per provare tutte le nuove apparecchiature Garmin in particolare abbiamo montato due GPS e display ripetitori per tutti i dati del vento, la velocità eccetera il radar che vedete sull'albero, abbiamo montato il nuovo IS-600 e sarà appunto da provare ed è fondamentale per noi l'Inreach che ci terrà in contatto costantemente con la terra, ci permetterà di inviare la posizione 24 ore su 24 in caso di bisogno lanciare un SOS e anche inviare e ricevere messaggi e quindi insomma speriamo che funzioni tutto ma non ne ho dubbi e vi saprò dire da Loriane, vi saluto e ci vediamo presto, ciao ciao